Lei arriva da Suzara, si chiama Ilaria Paduano, stasera ci farà ascoltare una canzone di una cantante, una delle più famose cantanti italiane nel mondo e questo brano è stato un grande successo come sempre dopo due anni di pausa e stasera per voi Ilaria Paduano con Benvenuto! Buonasera a tutti! 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 Buonasera a tutti!